Non hanno fatto trascorrere neanche una settimana dall'inaugurazione i vandali che stanotte hanno distrutto la targa della nuova piazza di Ladispoli, intitolata Giorgio Almirante, storico segretario del Movimento Sociale Italiano. Non è ancora chiaro se sia stato il gesto di qualche sconsiderato o un messaggio di dissenso politico. Sta di fatto che ora della pietra toponomastica è rimasto ben poco. Avendo previsto il verificarsi di una situazione simile, l'amministrazione aveva provveduto anche ad installare telecamere di videosorveglianza nell'area, ma al momento non sono ancora attive. Non dobbiamo accettare provocazioni, ha dichiarato il consigliere comunale Giovanni Ardita, che aveva presentato la mozione per l'intitolazione. Ordineremo una nuova targa o faremo la scritta con il cemento? Con tutta probabilità sono legate alla vicenda anche le gravi minacce arrivate via mail al primo cittadino di Ladispoli. Esprimiamo la nostra solidarietà al sindaco Grando, hanno affermato alcuni esponenti del gruppo consigliare della Lega per Salvini Premier. Non può essere questo il modus operandi di chi intende contrastare democraticamente la nostra azione amministrativa e politica.